Il titolo di questo evento, di cui il talk, che avrò l'onore di moderare tra pochissimo, sarà la parte conclusiva e ci sarà una parte conclusiva della parte conclusiva che veramente è da non perdere, vi premierà per essere rimasti, è un evento totalmente dedicato all'emicrania e il titolo è Affrontiamo la relazione con l'emicrania tra stigma e qualità della vita. L'emicrania è una patologia neurologica invalidante, seppur colpisca oltre un miliardo di persone nel mondo, in realtà resta un tema di salute molto sottovalutato, che viene banalizzato, indicato come un semplice mal di testa, che vuoi che sia, vedo già molte persone che annuiscono, chi lo prova sulla sua pelle o meglio sulla sua testa sa che non è così, ma lo sanno anche le persone che ruotano attorno alle persone che soffrono di emicrania, sanno che non è una patologia banale, non è un semplice mal di testa. Io vi ringrazio per essere qui, avrete notato queste bellissime sagome che sono in giro per tutto il BAM, la biblioteca degli alberi di Milano? Ne cito una, combattere e combatterti non sarà più il mio primo lavoro, perché quante volte mettiamo da parte il nostro lavoro per combattere contro l'emicrania? Allora, queste frasi sono qui dislocate in tutto il parco, a ricordare quelle frasi che vi girano e rigirano nella testa tutte le volte che avete un attacco. Ecco, oggi noi siamo qui per darvi speranza, per darvi coraggio, per ascoltarvi, per affiancarvi, per dirvi che è possibile una relazione diversa con l'emicrania, è possibile gestire l'emicrania grazie ovviamente alle terapie che ovviamente vanno avanti, migliorano sempre di più, ma è indispensabile superare quello stigma che vi accompagna, che porta le persone a non credere al vostro disagio, al vostro stare male, al vostro bisogno di aiuto. Ecco, vogliamo creare una consapevolezza anche in tutti coloro che non conoscono l'emicrania perché solo insieme si può superare lo stigma ad esso associato. Allora, la campagna è hashtag cambia la tua relazione con l'emicrania, è promossa da Lundbeck Italia con questo duplice obiettivo. L'evento è organizzato da Lundbeck Italia e BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, un progetto di fondazione Riccardo Catella, rappresenta un momento celebrativo di questa campagna che andrà avanti, inizia solamente adesso e si inserisce nel palinsesto culturale del parco e che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano. Quindi una grande opportunità, aprire il dialogo su questo argomento in questo parco così bello ed inclusivo è importante per dare valore al dibattito di oggi. Questo evento fa parte del programma culturale di BAM che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento di questa città con un ricchissimo programma di eventi culturali che lo rendono un parco a cielo aperto, un luogo di confronto sui grandi temi della contemporaneità. È il motivo per cui invito sul palco a dare il benvenuto Francesca Colombo, direttrice generale culturale di BAM. Salve Francesca, allora ci diamo del tu, sei un ingegnere, un titolo importante ma qui sei proprio in veste di amica di tutte le persone che sceglieranno BAM per vivere i loro momenti ma anche per vivere momenti di dialogo e confronto importanti come questo. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti qui a BAM e sono particolarmente felice di essere qui per la terza volta. È stato un rapporto con chi ha reso questi momenti, chi ci ha dato l'idea di organizzare questi momenti all'interno del programma culturale che come sapete è tutto gratuito, sono più di 320 all'anno e nascono da un grande ascolto della nostra comunità, dalla musica classica, i talk eccetera eccetera, ma questa iniziativa specifica stasera, devo essere molto sincera, è nata da un'idea di Tiziana Mele perché è stata lei a dirmi affrontiamo il tema del disagio mentale, io ti aiuto a livello scientifico, a livello ovviamente sono un'azienda, quindi ole, tu mi aiuti a livello culturale, artistico, performativo e l'esempio di stasera queste performance che avete visto è la classica unione felicissima che abbiamo avuto con Ludbeck e col suo amministratore delegato ed è il terzo anno che lo organizziamo per voi. Sono stati tante performance, oggi abbiamo iniziato alle tre e finiamo con questo talk e quello che abbiamo creato per voi, che avete applaudito poco fa, nasce da uno spunto proprio, perché la cultura ha questo potere meraviglioso di poter parlare al nostro irrazionale, al nostro io senza quasi rendercene conto e penso che tutti voi avete capito che questa performance che c'è stata prima affrontiamo il tema della relazione che spesse volte è complesso e oggi parleremo di questa relazione, il tema proprio dell'incontro, la relazione con l'emicrania. Quindi non mi resta che io sono sempre molto sintetica perché bam, lo trovate tutto il programma, i nostri eventi sul nostro sito, sui nostri social, è tutto gratuito, è pensato dai piccini agli anziani, quindi veramente cerchiamo di ascoltare, è un luogo di cultura, è un luogo di contemporaneità ed è un luogo come vedete dove si parlano di tematiche così importanti come sono quelle legate al disagio mentale. Quindi ancora grazie a Lundberg, grazie a Tiziana, grazie a Raffaella che modererai questo incontro e mi taccio perché la cosa importante è sentire i nostri ospiti che saluto e a cui do il benvenuto qui a Bama, alla Biblioteca degli Alberi di Milano. Grazie. Grazie Francesca, devo dire che di eventi ne presento parecchi ma questo palcoscenico a cielo aperto in cui vedo tanta innovazione, tanto verde e tanta cultura è veramente un onore per me essere qui. Grazie, natura, cultura è il nostro futuro. Grazie a Francesca Colombo. I saluti adesso del delegato alla salute del sindaco Beppe Sala, Francesco Caroli che invito, ringrazio, saluto. Diciamo, volendo allargare il palcoscenico dal BAM, diciamo che Milano si offre alla perfezione per unire la socialità, alla cultura, alla salute, quindi eventi belli che hanno anche un significato sociale e culturale importante. Certo, intanto buonasera a tutte e tutti, grazie agli organizzatori. Io sono felice, di portare i saluti del sindaco Beppe Sala, dell'assessore a welfare e salute Lamberto Bertolema, di tutta l'amministrazione comunale per cui lavoro e per cui coordino e cerco di seguire facendo del mio meglio le politiche di salute e soprattutto di cultura della salute che portiamo avanti come amministrazione. Vedete, l'amministrazione non ha un potere diretto sulla sanità ma può fare tanto su quello che riguarda la cultura della salute. È un evento come questo di grande importanza per la città e noi siamo davvero contenti che eventi come questo si svolgono a Milano. Perché? Perché in un'epoca in cui è facile confondersi o farsi influenzare anche da informazioni sbagliate o insomma comunque che portano su strade non scientifiche, momenti come questo di approfondimento e di conoscenza che permettono ai cittadini di informarsi e assumere consapevolezza sono fondamentali. Quindi io ci tengo a ringraziare davvero Bam, a ringraziare Tiziana e tutta la sua squadra di Lumberg per questa bellissima opportunità e per questa occasione di confronto e di crescita per tutti noi. Grazie e buon ascolto. Grazie a lei dottor Caroli, grazie infinite. La campagna che si lega a questo momento è veramente molto molto bella. Il sito vi consiglio di visitarlo, cambia la tua relazione con l'emicrania, è fatto davvero benissimo, è ricco di informazioni. Anche scientifiche sapete che quando si tratta di salute non c'è da scherzare, bisogna informarsi molto molto bene. Sono sicuro che chi soffre di emicrania si ritroverà in molte delle cose che vengono descritte. Se avete voglia fate delle storie, pubblicatele, usate l'hashtag che vedete cambia la tua relazione con l'emicrania per dare risalto a questo evento e anche chi non è a Milano potrà ovviamente vedere quello che stiamo facendo ed eventualmente andare ad approfondire meglio sul sito questo appuntamento. Allora, iniziamo il nostro talk. Abbiamo con noi la professoressa ordinario di psichiatria, direttrice della scuola di specializzazione in psichiatria dell'Università di Pisa, presidente eletta della Società Italiana di Psichiatria, la professoressa Liliana dell'Osso, che saluto e ringrazio e invito a salire sul palco, prego. L'amministratore delegato di Lundbeck Italia, la mente e il cuore che è dietro a tutto, Tiziana Mele. Il professor Alessandro Padovani, professore ordinario di Neurologia all'Università degli Studi di Brescia, presidente eletto della SIN. Sì, grazie, lasciatemi il posto libero, Alessandra Sorrentino, autrice del blog Le parole dell'emicranea, rappresentante di Alce per Ema. Cristina Tassorelli, professore ordinario di Neurologia dell'Università di Pavia, IRCS, Fondazione Mondino, presidente dell'International Headache Society. E poi un ospite di eccezione, Chiara Francini. Chiara è tante, tantissime cose, è un'autrice, io credo che la cosa che più, diciamo così, l'appellativo che più le piace, la qualifica che più le piace è quella di autrice, ma è anche un'attrice, è una conduttrice, è una scrittrice, a proposito del 13, presenta qui a Milano il suo libro, davvero una grande ricchezza averla qui, non solo in veste di tutte le cose che vi ho detto, ma anche in qualità di caregiver, di una persona che è la sua mamma, adorata mamma, che soffre da una vita di emicranea. Benvenuti! Io non mi sono presentata forse, mi chiamo Raffaella Cesaroni, sono una giornalista e vi accompagnerò per tutto il pomeriggio. Allora, non c'è niente di meglio quando si parla di un tema di salute di avere un approccio scientifico serio. Allora, il professore che è qui accanto a me, il professor Padovani, che è veramente molto bravo nella semplicità con cui spiega questa patologia, è il primo con il quale io mi voglio interfacciare. Professore, per la seconda volta in un giorno le chiedo di, è stato mio ospite stamattina, di spiegare bene la differenza che c'è tra emicrania e mal di testa, qual è l'incidenza, quali sono i sintomi ovviamente di questa patologia, che è una patologia. Questa è la prima cosa che voglio sottolineare, è una patologia. Intanto grazie, grazie Tiziana per aver organizzato qui questo evento sull'emicrania, a pochi giorni di distanza dalla giornata nazionale della cefalea. Ora, cefalea e mal di testa sono sinonimi. Il mal di testa è un sintomo che può avere ragioni e cause molto diverse, alcune anche molto pericolose, voglio dire anche molto importanti. Mai trascurare una cefalea o un mal di testa in persone che non hanno mai avuto mal di testa. L'80% della popolazione, l'80% di noi sperimenterà almeno una volta un mal di testa nella propria esistenza. Ma avere mal di testa o avere cefalea non significa avere emicrania. L'emicrania è una malattia che ha nel sintomo mal di testa la sua identità. Mentre negli altri casi il mal di testa è secondario o eventualmente legato ad altri processi. La professoressa Dell'Osso potrà spiegare quali sono le relazioni con lo stress e le malattie psichiatriche o il disagio. Tuttavia il mal di testa può essere legato anche ad una banale infiammazione. Chi di noi non ha sperimentato durante un attacco influenzale, quando la temperatura sale, avere quella sensazione di dolore o di testa vuota che in qualche modo riassume un po' il dolore della testa. Ma quando parliamo di emicrania parliamo di un'altra condizione. È una condizione che affligge probabilmente fino a 7 milioni di cittadini italiani. È una condizione che crea un indotto economico pare a qualcosa come 20 miliardi di euro solo in Italia. La maggior parte di questi, poi sarà la professoressa Tassorelli a spiegare quali sono i sintomi, la maggior parte di queste persone hanno degli episodi cosiddetti frequenti, recidivi, ritornano. Non sappiamo mai, io anche sono un soggetto con emicrania, non sappiamo mai se il giorno dopo ci sveglieremo e sarà una giornata di sole o una giornata in cui pioverà. Ma al di là di questo bisogna tener conto che la malattia emicranica ha delle specifiche, ha anche dei fattori cosiddetti di predisposizione magari familiari, ma la condizione di cui dobbiamo temere sempre è la cronicizzazione. In Italia si calcono fino a 300 mila persone che soffrono di un mal di testa emicranico praticamente quotidiano. Ogni giorno si svegliano e hanno mal di testa. Ecco, questo è l'elemento di cui dobbiamo parlare e di cui dobbiamo in qualche modo affrontare la relazione, cambiando la relazione con l'emicradia. Professore, se si vanno a leggere i dati e si guarda l'incidenza, lei mi diceva seppur l'esordio è eco tra uomini e donne, quindi tra bambine e bambini, perché spesso insorge molto molto presto, poi in realtà prende largo soprattutto nei riguardi della platea femminile per una serie di ragioni. Sì, questo spiega anche forse alcuni elementi dello stigma. È vero, fino all'adolescenza il rapporto tra maschi e femmine tende sostanzialmente ad essere uguale. Poi durante la fase cosiddetta fertile e anche in virtù delle variazioni ormonali c'è una maggiore incidenza e prevalenza della cefalea emicranica nel sesso femminile, ma dopo la menopausa niente ritorna uguale e ancora predomina l'emicrania e la cefalea nelle fasi cosiddette post-menopausali. Quindi è una malattia femminile, forse il 17%, il 15% delle donne soffre di emicrania, ma gli uomini non sono proprio niente, nel senso che abbiamo numeri intorno al 5% delle persone di sesso maschile. Quindi una malattia al femminile ma che non in qualche modo lascia i maschi fuori da questa condizione. Quindi teneremo una patologia di genere, ma non solo di genere. L'ultima domanda che le faccio, professore, è questa. Uno dei grandissimi problemi per chi avverte così fortemente questi sintomi è il peregrinare alla ricerca di una diagnosi corretta, il peregrinare alla ricerca dell'esperto più appropriato, più giusto. Noi siamo qui per dirvi che è possibile cambiare la relazione con l'emicrania, ma tutto deve partire da una corretta informazione e soprattutto dalla guida del clinico che ci può aiutare nell'indirizzarci verso la terapia migliore, perché ne esistono di diverse. Quanto sono diverse ovviamente le forme di emicrania, mal di testa, cefalea, eccetera, eccetera. È corretto? Sì, è corretto dire che oggi abbiamo farmaci e anche grazie allo sforzo di alcune aziende farmaceutiche abbiamo farmaci in grado di migliorare non solo il sintomo, ma di prevenire la cronicizzazione e di curare pazienti con emicrania. Detto questo, dovete tener conto che il numero di persone che soffrono di mal di testa sono tanti. Se andiamo a vedere nei pronto soccorsi, le persone che arrivano perché non hanno trovato una risposta dal medico di famiglia o dalla medicina territoriale, sono veramente tanti. E questo è un grosso problema perché i neurologi, per quanto si possano sforzare, non sono così tanti, sono circa 5.000 sul nostro territorio e da presidente futuro della società italiana di neurologia bisogna che teniamo conto che questi 5.000 neurologi si devono occupare di cefalee, di sclerosi multipla, di tumore cerebrale, di Alzheimer, di Parkinson, di malattie del sistema nervoso periferico, di sclerosi multipla, tanto per citarne alcuni. Quindi i centri che si occupano di cefalea non possono essere in grado di gestire tutta la platea di persone che avrebbero bisogno di essere presi in carico. E questa è la prima questione. La seconda, dobbiamo certamente portare all'interno di questo percorso la medicina del territorio e le cure primarie, cioè medici, medicina generale, devono essere alleati con noi per gestire le persone che soffrono di emicrania. Grazie davvero professore per questo quadro. Allora professoressa Tassorelli, alla luce proprio di questo quadro che ci ha offerto Padovani, le chiediamo proprio in che modo si manifesta. Ha detto cercare di evitare la cronicizzazione è fondamentale, ma è a tutti gli effetti, l'emicrania è una malattia cronica altamente disabilitante, quindi con un fortissimo impatto sulla qualità della vita. Vero, vero. Allora anch'io ringrazio la dottoressa Mele e tutto il team di Lundbeck per aver voluto organizzare questo evento, che mi piace molto perché è fuori dagli ambulatori, fuori dai centri dei congressi, è vicino alle persone che se sono qui è perché vogliono conoscere di più dell'emicrania o forse ne soffrono. Ecco però chi in questo momento ha un attacco emicranico probabilmente non riesce ad essere qui perché l'emicrania è una malattia neurologica cronica, ha ragione lei, che è altamente disabilitante. È una malattia ciclica, si manifesta con episodi in cui c'è il dolore. È vero quello che diceva professor Padovani che il dolore è un po' quello che rappresenta l'emicrania, ma non c'è solo dolore. C'è la nausea, il vomito, il fastidio per la luce, il rumore. Il soggetto emicranico in preda all'attacco emicranico si corica a letto, al buio, nel silenzio, quindi non sarebbe qua con noi. Quindi è una malattia che è altamente disabilitante ed è anche una malattia che è altamente prevalente. Se voi pensate ai numeri, 7 milioni di italiani, per fortuna non tutti ne soffrono in maniera cronica, però diciamo che dei 7 milioni 70% sappiamo che hanno meno di 5 giorni al mese di emicrania. Vi sembrerà poco, ma potrebbe non essere poco perché in genere questi pazienti che hanno meno di 5 giorni al mese di emicrania come si curano, col falle da te, con i farmaci sintomatici che prendono perché gliel'ha consigliato l'amico, il medico di medicina generale, il farmacista e a volte funzionano, a volte no. Se non funzionano è letto, buio, nausea, non riuscire a fare niente. Peggio ancora è la situazione dell'altro 30%, quelli che hanno più di 5 giorni di emicrania al mese. E guardate che sono numeri alti perché se voi li rapportate a Milano stiamo parlando di 70 mila persone, una città come Pavia, quella da cui provengo, è tantissimo. E queste persone sono a rischio perché anche queste, molte si curano col fai da te, ma curarsi col fai da te, col solo farmaco sintomatico, spesso è sbagliato. Perché quello che succede, noi lo vediamo nei nostri centri, quello che succede è che il farmaco sintomatico perde di efficacia e il paziente ne deve prendere di più. E il mal di testa ritorna quando passa l'effetto del farmaco sintomatico, come un boomerang. Per cui un paziente che aveva 5 giorni di mal di testa si trova ad averne 10, 15, a dover prendere sempre più farmaci. Ed è l'inizio del circolo vizioso. Quello in cui entra il paziente, per cui ha l'emicrania, deve prendere farmaci, deve continuare a prenderne sempre di più, ma l'emicrania torna sempre di più. E allora è un problema grosso perché poi, quello che dicevo prima, chi ha l'attacco di emicrania non lo si vede. Perché quando all'attacco ci si nasconde, ci si mette al buio, un po' perché ci si vergogna, un po' perché davvero non si riesce a funzionare. E allora lì subentra un altro punto di ingresso del circolo vizioso. Perché se io ho tanti giorni con il mal di testa, se io ho un farmaco che non so se funzionerà o non mi funzionerà, chiaramente ne risente anche l'aspetto emotivo. Tenete conto che il dolore è una sensazione, ma il dolore è ripetuto. Si riveste, non viene da solo, si riveste con delle emozioni perché ci sono parte del nostro cervello che lo caricano di emozioni negative. Quindi voi pensate a questi pazienti che si svegliano al mattino e temono o sono certi che avranno un altro attacco e non sono sicuri che saranno in grado di gestire questo attacco. Per cui immaginate la loro giornata. Tant'è che noi parliamo spesso di peso dell'emicrania, critico, quello dell'attacco, ma poi c'è anche il peso intercritico, quello per cui mettono in atto i pazienti i comportamenti di evitamento. Non mi espongo al sole perché magari mi scatena l'attacco di emigrania, non vado all'aperto perché c'è caldo, mi interessa questa iniziativa di oggi ma forse il caldo mi fa venire il mal di testa. Quindi i comportamenti di evitamento smettono di pianificare le vacanze, il lavoro, la carriera, la vita sociale, smettono di vivere in qualche modo. E questo se ci pensate è terribile perché poi porta con sé anche delle comormidità. Il paziente emicranico cronico spesso soffre di ansia, ne parlerà poi la collega, spesso si associa anche la depressione. E quindi voi direte ci stai dipingendo un bel quadretto. Non sto esagerando, per molti pazienti la realtà di ogni giorno è davvero così. Però vorrei finire con un momento un pochino più leggero perché è vero che con campagna come quella di oggi, con la discussione tra esperti ma anche tra non esperti, con chi ne soffre, si può trovare una soluzione. L'emicrania si può curare, si può prevenire, si può sicuramente ridurre il peso che causa sulla vita delle persone di chi ne soffre. Si può cambiare la relazione con l'emicrania, si può cambiare. Raramente ho visto persone in platea nuire così tanto di fronte al quadro che ci viene offerto dai clinici perché evidentemente vi vedete, vi ritrovate in questo identikit, è vero signora che continua a farmi così con la testa come per dire sono io, sono esattamente io. E io sono qui, voi siete qui, siamo tutti qui per aprirci e per confidarci anche questo senso spesso di impotenza che avvilisce chi soffre di emicrania ma non solo, anche le persone che sono accanto a chi soffre di emicrania, che cercano di dare un aiuto ma spesso non riescono a trovare ovviamente quel click giusto e quell'approccio giusto. Siamo qui insomma per aprirci e per imparare. Dicevamo quella necessità di chiudersi dentro casa al buio, in silenzio, di isolarsi. Sono dei comportamenti ovviamente non naturali perché l'essere umano è fatto per stare con gli altri. Ecco, sono dei comportamenti che possono spingere verso del disagio, disagio che poi può diventare ansia, stress e anche depressione. Vengo per questo da lei, professoressa Dell'Osso, la correlazione tra emicrania e disturbi mentali esiste e come si manifesta? Sicuramente una volta posta la diagnosi di emicrania c'è un indice di sospetto di disturbo mentale veramente elevato e quindi va assolutamente fatto uno screening di tipo psichiatrico. Allora, sicuramente al primo posto i disturbi d'ansia, si parla di condotte di evitamento, si parla di tendenza all'isolamento sociale, sono già sintomi indicativi di un disturbo d'ansia. I soggetti con emicrania hanno nel corso della loro vita almeno una fase in cui soddisfano i criteri per un disturbo d'ansia. Quindi disturbo d'ansia generalizzato, con appunto le ruminazioni e l'ansia anticipatoria, il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo di panico, la sintomatologia da stress post-traumatico, che è la patologia che consegue proprio alle situazioni stressanti croniche come un dolore cronico. Chiaramente questi disturbi devono essere trattati perché se la depressione concomitante all'emicrania non viene trattata, allora c'è il rischio, per esempio, che l'emicrania episodica si trasforma in cronica. Quindi generalmente poi la comorbidità si ritrova quando l'emicrania è già cronica, quando c'è l'aura anche. Inoltre la presenza di un disturbo mentale non trattato riduce la risposta favorevole ai trattamenti per l'emicrania e quindi invalida la possibile terapia specifica dell'emicrania. Ma è soprattutto nei disturbi dell'umore che dobbiamo andare a cercare questa comorbidità. La depressione sicuramente. Ci sono degli studi in cui addirittura nei pazienti con emicrania cronica o con aura si trova, si sfiora il 50% di prevalenza di depressione. Il disturbo bipolare in un terzo dei casi si associa a emicrania, quindi una percentuale altissima. Si tratta in particolare del disturbo bipolare 2, che è quello più frequente nel sesso femminile e quindi si va a quel rapporto femmine-maschi di 3 a 1, che guarda caso si trova nell'emicrania ma si trova anche nel disturbo bipolare 2, che è quello ad esordio precoce, ad alto numero di episodi, cosiddetto rapido ciclico e con una grande componente anche eredo familiare. Poi la depressione, l'abbiamo detto, il rischio di suicidio, chiaramente, che condivide l'emicrania con, chiaramente, quando è in comorbidità aumenta, con altri disturbi anche legati al dolore cronico. Qualcosa che non è studiato quasi per niente in letteratura, ci sono pochissimi studi, e che però è una patologia emergente di cui a Pisa, all'Università di Pisa, ci stiamo occupando molto, è il disturbo dello spettro autistico, che molto spesso si associa a una sintomatologia emicranica. Tra l'altro, proprio tra i criteri diagnostici del disturbo dello spettro autistico, c'è l'ipersensibilità, l'ipersensorialità, l'iperalgesia, e quindi questi pazienti sono fortemente a rischio e con il loro disturbo della comunicazione, nelle forme più gravi, non riescono nemmeno a interpretare cosa gli succede e anche a riferirlo. Ma l'emicrania è particolarmente elevata anche nelle forme cosiddette ad alto funzionamento, in cui non c'è ritardo mentale, non c'è disturbo del linguaggio. Questo mi fa venire in mente, professoressa, questa forte correlazione, questo legame, che nella cura dell'emicrania andrebbe attuato un approccio multidisciplinare, quindi del neurologo, dello psicoterapeuta, dello psichiatra contemporaneamente, per fare in modo che ci sia veramente una presa in carico totale a 360 gradi del paziente, corretto? Ma sicuramente qui ci sono due illustri neurologi, ma sappiamo bene che il cervello è quello, è un organo. Non a caso siamo andati a cercare il disturbo dello spettro autistico, che è il più neurologico dei disturbi mentali, quindi proprio a ponte. E quindi è evidente che questa distinzione tra neurologia e psichiatria aveva senso, forse, quando c'è stato questo divorzio all'inizio degli anni 50, quando il cervello era una scatola nera, non c'era modo di indagarlo, facevi un RX del cranio se battevi la testa. Al di là di quello, chiaramente non c'era. Oggi con la neuroimaging noi studiamo i disturbi mentali e quindi con le tecniche di neuroimmagine, quindi sicuramente l'approccio deve essere integrato. È il più corretto. Ricordiamoci poi un altro aspetto che ci tengo a sottolineare al fianco di Lundbeck Italia, che ringrazio per avermi voluta qui in questa giornata, è che la salute parte dal cervello. Non esiste salute senza la salute mentale. Tutto parte da lì. Puoi essere nella miglior forma possibile fisicamente, ma se la tua testa non sta bene, tutto si ripercuote sul resto. Per cui la salute del cervello è fondamentale. Grazie professoressa. Volevo solo aggiungere che anch'io mi complimento con Lundbeck e con Tiziana Mere per l'iniziativa che reputo per una malattia sociale come l'emicrania, ma insomma anche disturbi mentali, reputo veramente come abile. Grazie. Allora, quando parlo nel mio lavoro di tutti i giorni di patologie e di malattie, voglio sempre avere l'esperienza, la testimonianza di chi quella patologia la vive sulla propria pelle per fare in modo di non sembrare scollata da quello che racconto. Alessandra Sorrentino è una persona che convive con l'emicrania da parecchi anni e mi raccontava che l'esordio, lei non ha ovviamente consapevolezza a quattro anni di età che quella sia realmente emicrania, ma sentiva male, stava male. Ecco, voglio da te Alessandra esattamente questa testimonianza, l'importanza della consapevolezza del paziente all'interno di un percorso di cura. Intanto grazie Tiziana, grazie a tutto il team di Lundbeck, grazie a voi che siete qui, per me è un'emozione immensa essere qui e raccontarvi la mia esperienza. La consapevolezza è la chiave di tutto e l'ho capito due anni fa. Io ho iniziato appunto a soffrire, ad avere una sintomatologia che chiaramente poi dopo era sintomo dell'emicrania che sarebbe arrivata dopo, avevo quattro anni. Quattro anni in cui ricordo perfettamente, lo raccontavo questa mattina, questi pomeriggi a letto, questo dolore sugli occhi che non mi dava pace, dovevo solo aspettare che passasse. E avere questo ricordo dell'infanzia è un peso, anche questo è un peso. Se avessi avuto la consapevolezza sarebbero cambiate tante cose. Io ho sentito parlare di emicrania per la prima volta nella mia vita quando avevo 17 anni, perché è stato il momento in cui ho avuto l'aura per la prima volta e non sapevo di cosa si trattasse. Mi sono ritrovata a non vedere, a non riuscire a parlare, ad avere formicolio e paresi fino alla mano, dal volto fino alla mano. E io non sapevo cosa mi stava succedendo. Ero fuori di casa, ero da sola, terrorizzata da questa cosa. Ho visto il mio primo centrocefalea 23 anni, quindi molti anni dopo. Ho capito che era una malattia e che potevo dire di essere malata. Ed è strano doverlo dire con orgoglio, perché vi garantisco che è stranissimo, però ho potuto dire al mondo e a chi mi stava vicino, io sono malata, ho una malattia neurologica che ne avevo 38 due anni fa, perché oggi io ne ho 40. E se io davvero avessi saputo di avere una malattia che tra l'altro di cui soffriva mio papà, perché mio papà aveva una forma di emicrania e di cefalea grappolo, di cui tutt'oggi lui in realtà non ha una diagnosi ufficiale. Se io l'avessi saputo avrei vissuto un'infanzia, un'adolescenza e un'età adulta molto diversa, perché la descrizione del paziente che vi è stata fatta è la verità. I pianti, gli attacchi di panico, l'ansia anticipatoria, la rabbia, la frustrazione che hai quando ti alzi al mattino e tutti i giorni hai male, perché io due anni fa avevo 20-25 giorni di mal di testa al mese. Non era più vita. Per me era svegliarmi, prendere il moment, prendere il triptano, prendere qualsiasi altra cosa che mi facesse stare bene, perché io non potevo vivere e non stavo bene. Io stavo male, stavo male tutti i giorni. Andavo a dormire dove il mio unico pensiero era quanti farmaci avrei dovuto prendere il giorno dopo, se potevo andare in vacanza, se potevo andare in palestra, se potevo semplicemente uscire e prendere il sole, stare al mare, prendere il sole senza dover avere il cappellino, gli occhiali da sole, stare sotto l'ombrellone, ho bevuto abbastanza, è un incubo, è davvero un incubo e la consapevolezza avrebbe cambiato questo, avrebbe cambiato la diagnosi precoce e il percorso terapeutico giusto nel tempo giusto. In questo lungo percorso, la domanda ovviamente è provocatoria, ti sei mai sentita sola? Sì, mi sono sentita tanto sola, ma tantissimo. Solitudine perché spiegare un dolore che non si può vedere in apparenza, perché in realtà chi mi conosce oggi quando ho mal di testa mi guarda in faccia e me lo dice, mi dice i tuoi occhi mi stanno dicendo che hai mal di testa, la tua faccia me lo sta raccontando, mi spengo, non riesco a parlare, veramente cambia tutto di me, però spiegare che questo dolore davvero non ti permette di fare nulla, magari la mattina mi svegliavo e stavo bene, dopo due ore dovevo andare a letto, dovevo uscire da lavoro e andare a letto oppure svenivo a scuola perché mi è capitato di svenire a scuola per il dolore, spiegare questo è difficile, è difficile farsi credere perché è un dolore invisibile in apparenza e mi sono sentita tanto sola, tanto incompresa, nonostante vicino a me ci fossero persone che si sforzavano di aiutarmi, soltanto che in quei momenti non puoi fare nulla se non stare a letto, pregare di non vomitare e sperare che passi il prima possibile e quando passi tre giorni a letto la solitudine è immensa e si fa fatica ad scrivere, veramente ancora mi ho il magone quando ne parlo perché è difficilissimo. Però vedi, non sei sola, sei qua con noi e apprezziamo moltissimo il modo con cui hai condiviso con noi la tua esperienza che può essere sicuramente utile. Io ho raccolto spesso confidenze di chi soffre di emicrania, io convivo con una persona che amo molto che soffre di emicrania, so cosa vuol dire prendere un farmaco per evitare che l'attacco arrivi ed ho raccolto confidenze di chi mi ha detto preferirei avere un cancro che si vede e che si può ovviamente oggi per fortuna curare piuttosto che soffrire di un mal di testa che è invisibile e che mi crea tutto questo dolore e questo disagio. La solitudine non è solo di chi soffre di emicrania, ma anche di chi si prende cura di chi soffre di emicrania. Cercavamo qualcuno che ci spiegasse questo aspetto del caregiver in una maniera forte e chiara. Eh? Ti è piaciuto Chiara? Straordinaria. Un libro bellissimo il suo, compratelo perché veramente questa donna è unica nella intelligenza che c'è in ogni parola che dice. Quindi io non ti voglio definire una, io voglio definirti una donna con un'ironia così pungente, così intelligente. È in grado di mettere all'angolo anche i personaggi più scomodi con una battuta. Ti è. Ti è. Allora la tua mamma Chiara, la tua mamma soffre di emicrania da una vita. Oggi ti ha detto ma proprio di me devi parlare anche oggi. Eh sì perché appunto le sono stata molto accanto, mia mamma è una donna di paese, è molto coriace, ha sempre lavorato però fin da bambina vedevo che le si chiudeva un occhio, doveva stare appunto al buio. Mi ricordo che ha un modo particolare di dormire che vedendola ha attaccato anche a me, soprattutto quando si riposava aveva l'emicrania, si metteva il braccio sugli occhi per cercare di trovare più buio, più buio possibile. Quindi mi ricordo di questa donna che comunque ha sempre lavorato in maniera molto testarda, volitiva, continuava ad andare a fare la spesa, ad andare a lavorare, non voleva cedere, non voleva tirarsi indietro, voleva continuare ad essere una brava mamma, voleva continuare ad essere una brava lavoratrice e quindi mi ricordo che anche quando faceva le pulizie a casa il venerdì, perché il venerdì era il giorno, mi ricordo che si appoggiava, lo spazzolone è quello per dare il cencio, per dare lo straccio e mi ricordo che si appoggiava con la testa perché le veniva da vomitare ma non mollava, quindi invece di tre ore ce ne metteva sei e quindi ecco l'emicrania nella mia famiglia è una componente che ha imbrattato la mia infanzia e anche la mia adolescenza perché appunto è un qualcosa che ha toccato, ha schiaffeggiato in maniera profonda a mia madre che da donna molto coriacea, che probabilmente viene alle donne ma forse perché le donne sono maggiormente capaci di resistere, hanno una tempra diversa che quindi ho visto che ha combattuto e probabilmente quello che manca è anche come sentivo un'alfabetizzazione, una piena consapevolezza di quelli che sono anche i percorsi perché mia mamma per esempio non le sarebbe mai venuto in mente di andare in un centro cefalea o comunque di fare un percorso appunto neurologico, manca probabilmente questa alfabetizzazione e appunto come sempre la conoscenza e libertà e salute. Però la tua testimonianza Chiara per la quale ti ringrazio ci aiuta a capire che quando la malattia entra in una casa non colpisce mai una sola persona perché ovviamente questo vale per tutte le patologie, a maggior ragione per l'emicrania in cui ovviamente soprattutto una peperina come te che non poteva fare casino quando la mamma aveva l'emicrania evidentemente ti metteva anche un senso di ansia no? Perché dicevi immagino... Sì perché poi la mamma non vuoi mai che stia male, non glielo perdoni alla mamma di stare male, la mamma deve essere sempre lì per te, deve essere sempre sana quindi è anche un sentimento quasi di... ti fa quasi rabbia la mamma che sta male. Eh sì. Allora ringraziamo Chiara e però voglio dire il bello ad avvenire con lei è... state qua perché ha preparato una cosa per tutti voi veramente bellissima. E Tiziana, arrivo a te. Poi c'è anche spazio per delle domande se avete desiderio di approfondire qualche aspetto, qualche tema. Siamo qui per voi. Ovviamente. Tiziana, allora la campagna, io l'ho definita una campagna molto bella, cambia la tua relazione con l'emicrania. L'obiettivo è, come diceva Chiara, una alfabetizzazione, una corretta informazione. L'impegno di Lundbeck, lo accennavo, è a 360 gradi per quanto riguarda la salute del cervello. Assolutamente sì. Innanzitutto io ringrazio chi è accanto a me stasera, il professor Padovani, Chiara Francini, la professoressa Dell'Osso, Alessandra, veramente grazie per la tua... e la professoressa Tassorelli. Per me è un onore essere qui su questo palco, condividere quello che è l'impegno di Lundbeck, di Lundbeck a livello internazionale, di Lundbeck Italia in particolare. Lo dicevi bene, Raffaella, la salute parte dal cervello e questo è il nostro impegno. E una delle cose che mi ha colpito in primis quando abbiamo iniziato ad occuparci di emicrania è il forte stigma che, diciamo, si accompagna all'emicrania. Per noi è facile parlare di stigma perché venendo dalla depressione, dalla schizofrenia, lì lo stigma l'abbiamo sempre vissuto. Ascoltare la storia di Alessandra, ascoltare la storia dei tanti pazienti che soffrono di emicrania, ascoltare quella malessere dell'essere invisibile ci ha fatto ancora di più combattere e aumentare quello che è il nostro impegno. Proprio all'alfabetizzazione, come diceva giustamente Chiara, è il motivo per cui abbiamo deciso di fare eventi di questo tipo aperti, aperti al grande pubblico per parlare e dare la possibilità a tutti voi di confrontarvi proprio con chi si occupa di queste patologie. Perché l'emicrania è una patologia, come la depressione è una patologia, come la schizofrenia è una patologia e non possiamo nasconderci dietro un dito e pensare che questo non lo sia. Questo è il nostro impegno. La campagna Cambia la tua relazione con l'emicrania è una campagna che è partita un mese e mezzo fa, che racconta, e io vi invito veramente a leggere i pensieri delle sagome che trovate in questa bellissima cornice, la cornice del BAM, quindi grazie all'ingegner Colombo che è sempre molto aperta ad ospitare le nostre iniziative. Sono belle queste frasi e sono frasi che non abbiamo inventato noi ma che abbiamo raccolto da pazienti raccontandogli, chiedendogli che cosa vorresti avere come pensiero relativamente a cambiare la tua relazione con l'emicrania. Finalmente sto facendo la mia valigia per questo viaggio ma so bene che tu non sarai con me in spiaggia perché ti lascerò in valigia, quindi so che sei parte di me, non ti posso cancellare, ma di sicuro non rovinerai più la mia vita. E' quello che vogliamo raccontare con questa campagna perché grazie all'impegno di Lundberg, grazie all'impegno di tante aziende farmaceutiche sappiamo che queste relazioni si possono cambiare. Grazie a Tiziana, Mele e a Lundberg Italia, a tutto il team che ha organizzato questo bellissimo evento qui al BAM.